Il maltempo si è abbattuto su gran parte della Bulgaria causando la morte di due persone, gravi danni e interruzioni della fornitura di energia elettrica. La situazione peggiore si è registrata nell'est del paese. A Varna una donna è morta domenica dopo essere stata colpita da un ramo mentre tornava a casa. Nella capitale Sofia un automobilista è rimasto ucciso sabato sera da un albero caduto sull'auto in cui viaggiava. Grazie a tutti.